Vaccinazioni in ritardo consentite alle farmacie di vaccinare tutti. A chiedere un rapido cambio di passo adesso a Roberto Giotti, presidente di Federpharma Arezzo. L'associazione che rappresenta le circa 100 farmacie private presenti sul territorio aretino sollecita infatti un confronto urgente con le istituzioni regionali. È opportuno ed utile, direi anche indispensabile, spiega Giotti, fare un'analisi della situazione vaccinale in farmacia, visto che è innegabile la falsa partenza su vaccinazioni a causa delle pochissime richieste e del sostanziale fermo delle prenotazioni. I motivi di questo stallo sono molteplici. Il primo, il più evidente, è che il tipo di vaccino messo a disposizione delle farmacie è unicamente il Janssen di Johnson & Johnson, in una dose unica ma che può essere somministrata secondo le indicazioni regionali solo ad un range d'età dei vaccinandi che è compreso nella fascia di età tra i 60 e i 79 anni, quindi molto ristretto. Altre problematiche prosegue sono ad esempio la gestione delle scarse prenotazioni e il fatto che il vaccino ha una scadenza di tre mesi. Se le farmacie non potranno estendere a breve la possibilità di effettuare i vaccini stessi a fasce di età inferiori a 60 anni, il rischio è che resteranno inutilizzati e inutilizzabili molti vaccini. Altro problema è che questa situazione provoca anche sedute vaccinali incomplete nel caso di assenza di uno o due dei cinque vaccinandi previsti nella giornata che determinano uno spreco di dosi per la scadenza del vaccino. È fondamentale per noi, per poter procedere con le importantissime vaccinazioni della popolazione, poter somministrare in farmacia il vaccino Pfizer o Moderna che consentirebbero di raggiungere di fatto una fascia all'età molto più ampia dando alla farmacia stessa la possibilità di dare un contributo decisivo e per certi versi insostituibile alla campagna di vaccinazione soprattutto con crudegiotti nell'attuale fase pandemica caratterizzata dal rapido rifondersi delle varianti alfa e delta del covid-19 nella popolazione giovanile.